Quando ho iniziato a seguire Luca Romano era veramente indietro nel muscle up, per carità non che adesso sia una cima, però il miglioramento è stato molto importante. In questo anno di streetlifting abbiamo messo le basi per migliorare in questa alzata che è molto tecnica e molto difficile, soprattutto per un ragazzo che comunque si allena anche da poco. Vi assicuro che Luca ci tiene tantissimo e per lui è veramente frustrante questo tipo di movimento che non sale esponenzialmente come fanno gli altri. Ma non si è abbattuto, Luca ha un mindset pazzesco e sa che comunque le altre alzate gli possono garantire dei bei chili che lo fanno essere veramente un atleta di livello elite. Per cui nel muscle up non stiamo affrettando i tempi, ci stiamo prendendo il giusto tempo appunto per migliorare piano piano e per consolidare un movimento per farlo poi bene in gara. Molti ragazzi sentono frenati appunto magari da uno o due alzate in cui non sono fortissimi, ma ragazzi non potrete avere tutto. La coperta come si dice è corta. Non gareggio perché sono scarso nel muscle up, non mi sento all'altezza. No ragazzi, in quel caso io devo gareggiare, devo capire fin dove mi sono spinto e devo capire fin dove posso arrivare. Finché non vi impegnate realmente in una preparazione, non potete sapere se realmente quello è un punto carente oppure no. Sentiamo cosa da dirvi Luca. Allora, purtroppo io nel muscle up non riesco ad esprimermi come vorrei. Sicuramente in deep trazione e squat miglioro molto meglio, però l'importante secondo me è continuare a lavorarci. Io e Luca sicuramente insieme continueremo ad allenare questo movimento e siamo sicuri che prima o poi otterremo i risultati sperati. Non ha senso rinunciare, anche perché io e Luca siamo sicuri che si può migliorare anche in un movimento in cui non siamo portati come vorremmo. Quindi si continua a spingere.